Ministro, secondo te ministro, il problema del paese è il numero di leggi che facciamo che siamo troppo lenti. Siamo il paese che fa più leggi in Europa. Il paese che fa più leggi in Europa. Il problema è fare poche leggi e farle bene. Non continuare a fare leggi elettorali per Renzi. Il problema è fare poche leggi e farle bene e magari comprensibili. E magari comprensibili. Quindi lei cosa deve fare nella sua vita in caso di vittoria del sì? Praticamente. Guardi, praticamente credo che ci sarà un blocco istituzionale, altro che più leggi. Credo che ci sarà l'annientamento di tutte quelle autonomie virtuose che eragano servizi, che eragano il diritto alla salute, che eragano il diritto al trasporto, ai nostri cittadini. Penso che ci sarà un peggioramento della vita dei cittadini. E quando sento dire, beh, piuttosto che niente è meglio piuttosto, io dico, non stiamo fermi perché se il passo avanti è cadere nel fosso, preferisco stare in piedi e vedere magari di girarmi dall'altra parte e sopravvivere.